NARANONNE Tiago di Mariana dell'Orsini e Fernanda Menendez Santiago imparò a volare nei giorni in cui si chiusero porte e finestre. Nei tempi dove il confine sfiorava la punta del naso. Non sepe mai come ci riuscì, ma capì di aver volato quando il paesaggio a lui familiare, fatto di granito e muri bianchi, si trasformò in un scenario di giungle, spiagge e avventure. Quel che sepe subito invece fu che da quel momento avrebbe potuto volare quando lo desiderasse. Quel che avrebbe capito più tardi è che la libertà non può essere né data né tolta. NARANONNE 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 NARANONNE